Ed eccoci qua di nuovo, benvenuti da Vianauta, siamo quindi arrivati al sesto episodio di Crusader Kings 2 Charlemagne Quindi per fare un po' in punto della situazione abbiamo preso Carlo, in qualche modo siamo riusciti a prenderci da anche il territorio di nostro fratello, qui la Middle Franchia Avevamo già avevo questa Franchia in inizio del gioco, abbiamo preso la Bulgaria, qualche altro straderello qui in Bretagna e ho creato l'impero francese E come vi dicevo nei commenti, magari questa è stata una decisione che ho preso per mettere un po' al sicuro la successione Quindi per evitare che poi si sfaldasse tutto, perché avere più titoli dello stesso livello, quindi tutti i reame ne aveva addirittura tre Si rischiava che praticamente avendo due figli, in questo momento, a meno che non squalifico qualcuno dalla successione Comunque avendo due figli si sarebbe diviso in due In verità qui ancora ci dice che perdiamo l'impero francese, perché andrebbe a questo duca che ha sei voti Quindi come vi ho detto l'altra volta, questa successione elettiva potrebbe essere un problema In verità avrei potuto, per esempio, non ci ho pensato, perché mi sa che qui la successione è di tipo esatto Gavelkind, che praticamente significa che si divide tutto tra i figli Come vedete, praticamente questo va al nostro fratello e questo all'erede Se togliessimo questo fratello dalla linea di successione, lui diventerebbe l'erede Per quanto riguarda il regno di Francia, fortunatamente questo rimane al nostro ragazzo qui E la Bavaria va al fratello, quindi diciamo che se riuscissimo a squalificare il fratello in qualche modo dal gioco delle successioni Riusciremo quantomeno a tenere i tre reami, però saremmo vassalli di questo duca Guglielmo di Toulouse Quindi in questo momento dobbiamo praticamente riuscire a capire come fare per togliere di mezzo sto duca Se provassimo ad assassinarlo, eh, 188.9 Quindi magari proviamo a vedere se riusciamo ad assassinarlo E la cosa in verità sarebbe anche magari riuscire a rimodificare la legge Noi abbiamo creato questo titolo nel 780, in verità pochi mesi fa, 10 mesi fa E per esempio questo, quindi nel 790 e noi avremmo 48 anni Quindi dobbiamo sperare di non lasciare le penne prima di 48 anni Potremmo provare magari a ritornare su una successione che non sia tipo questa elettiva Tipo o la Gavelkind stessa o l'Elective Gavelkind che prende un ibrido Quindi vuol dire che qui praticamente se non lo sapete significa che solo praticamente i figli legittimi Di solito prima i maschi e poi se non ci sono le femmine Se non ci sono... oppure una femmina che ha un figlio maschio Quindi il figlio maschio eredita Insomma, è un po' complicato però sappiate che rimane tutto in famiglia, insomma, in qualche modo E un'altra che mi piace tanto è la primogenitura Però la primogenitura è complicata Perché richiede, vedete, nessun bassallo ha opinioni negative Non stanno in guerra tra loro E con quel casino che abbiamo fatto e abbiamo dato in giro Titoli così per ritornare nei nostri limiti Mi sa che non sarà cosa proprio facilissima La Gavelkind invece richiede Che siamo tra dieci anni, da dieci anni siamo in pace Ah, comunque che non combattono tra loro E che nessun mio vassallo ha di noi un'opinione negativa Vediamo un po' quanti hanno opinioni negativi di noi Sono solo tre, fortunatamente, sono tutte e tre conti Vediamo di capire se possiamo in qualche modo soddisfarli No, questo dice che è ambizioso Gli abbiamo dichiarato guerra ed è ambizioso Quindi questo qui deve semplicemente perdere il titolo Ed è questo È cristiano Però qui forse, probabilmente, potremmo creare il Ducato di Bretagna E quindi dare questo a qualcuno Ok, quindi quello si potrebbe tranquillamente togliere di mezzo così Abbiamo pure delle fazioni, ma sono fazioni come vedete minuscole Insomma, in questo momento non ci daranno noie Ok, qui nostra figlia potremmo farla Praticamente Potremmo darla, per esempio, a A questo Così guadagniamo 20 di opinioni Andiamo avanti Abbiamo anche il nostro secondo figlio Anche se sarebbe il caso che Lo formiamo noi Perché magari va a finire che diventa l'erede Possiamo creare 21 titoli Quindi diciamo E perderemo anche una con te Vabbè Questa storia della successione A me quello che preme di più è non parlare del titolo imperatore Poi per quanto riguarda il titolo magari Questo Come si chiama? Questi altri titoli che prenderebbe il fratello qui Questo secondo figlio Potremmo in una delle terre qui Magari, che ne so, nel regno di Bavaria Mettere l'investitura libera E quindi farlo diventare vescovo Questo lo squalificherebbe da poter Prendere titoli nobiliari Potrebbe essere questa una tecnica Visto che il bottone assassino è stato tolto Perché poteva essere anche quello, purtroppo Un modo Ma noi abbiamo nominato il nostro figlio Spero di sì Sì Vabbè, quindi in qualche modo dobbiamo far sparire questo signore Il papa magari ce lo fa scomunicare? No Ha fatto qualcosa lui che lo possiamo mettere in galera? No È un bel tipetto Ha 6 voti Quindi dobbiamo vedere un po' che fare Però insomma l'opinione sua è pure alta Nei nostri confronti Quindi non riesco a capire Vabbè Quindi vediamo Ho abilitato l'intrigo Adesso vediamo quanta gente entrerà Nel frattempo vediamo di mettere giù anche questa ribellione Ok Magari questi li leviamo perché stanno troppo vicini a quell'esercito e non vorrei rischiare che si sposti e ci uccida truppe così Gratuitamente Quindi io direi di raggrupparci Vedete? Cominciano a sprettarsi infatti Ok Nostro secondo figlio potrebbe prendere il tratto di arbitrario o perderlo Vabbè, non è un buon tratto Glielo facciamo perdere Ok Ok Approviamo il piano Speriamo che nessuno ci scopra I nostri consiglieri sono tutti al lavoro Non l'ho verificato Sì, stanno tutti a fare qualcosa Ok, quindi lui è morto Vediamo un po' Ecco Finalmente lui ha preso 4 punti Meglio così Quindi era troppo potente il signore lì Speriamo che non si rispostino gli equilibri Adesso dobbiamo giocare così Con la successione elettiva Il rischio è quello Allora Ah, questo è l'emiro che ci aveva chiesto Ehm Ah, quindi continua quella storia Io infatti non capivo che era successo Ok, quindi gli diamo una mano Offensive war Quindi Eh Siccome è una guerra di tipo offensiva Adesso Eh Aumenterà il fatto che stiamo usando truppe che non sono nostre Purtroppo Nei da ho dei soldi E una cosa che potremmo cominciare a fare Sono le retini Che sono state modificate Se non sapete che cosa sono Diciamo una sorta di guardia personale del re E che in base alla dimensione del proprio Ehm The main Quindi del proprio impero Insomma questo Il size Quel valore cresce Ehm E si può avere sempre più soldati E l'idea Praticamente è Mh Avere queste truppe che sono praticamente estanziali Però le hanno modificate Praticamente sono diventate di numero molto inferiore E costa anche mantenerle Prima invece se stavano in piena salute Non costava niente Ehm Mantenerle Ah la guerra la stavano pure già vincendo Dov'è che sta andando questo? A A van Quindi qui Ok No Ho detto van Ma non andava a van Lo becchiamo? Appena possiamo dobbiamo andare a dare una mano A loro Vediamo un po' se posso tirar su Altre truppe Potremmo Ok Questa guerra è finita Vediamo se il signore qua Ci dà dei soldi No Mi faccio prendere i voti? Ma no Ma chi se ne frega Vattene via di qua E Ok Portiamoci al confine con la Spagna Sperando che Adesso non siamo di nuovo in carica Sì ma no E basta Ma perché ti metti sempre? Io non voglio che tu muoia Come te lo devo dire Caro mio Non c'è un'opzione La cosa è odiosa Che non ci sia un'opzione Eh qui sotto Si stanno scannando Tra di loro Io Devo capire A chi devo attaccare Quindi posso attaccare Questi standardi qui Eccoli qua Questi qui Devo stare attento a non fare come prima Che magari gli do una mano invece di distruggerlo Ok Controlliamo ogni tanto che Ok Eh C'è un altro duca che si fa spazio Come vedete Ha già tre voti Allora Comunque una cosa che potrei fare adesso È verificare un po' Tra Quelli che hanno La possibilità di votare Ecco per esempio Questo qui Magari gli potremmo dare Un Un aiuto Così Questo è rimasto così indietro Vabbè Allora Mettiamo un po' a posto Bilanciamo le truppe Noi non stiamo Da nessuna parte E Ha la carica di questo Quindi noi siamo solo alleati Di questo pezzettino qua Però praticamente siamo in guerra contro tutti Perché ci sono sollevati tutti È strana però sta cosa Ok Allora Potrebbe Diventare invidioso Perdere Il tratto invidioso Potrebbe diventare O gentile o invidioso Proviamo a vedere se diventa gentile È diventato gentile Ci sta uscendo pure un Buon figlio Magari sarebbe addirittura meglio Togliere di mezzo il primo genito Vieni qua C'è un attrito pazzesco Da queste parti Ci stanno morendo uomini Sono eserciti piccolissimi O dirigente O slot full Nessuna delle due Vabbè Preso Benissimo Allora Dov'è che sta andando? Ok Quindi Sono alleati Mi sa Dobbiamo per forza Di cosa attaccarli Torniamo qui In posizione Allora io Comincio ad assediare I possedimenti Di questo califo Era un califo Sultano Abbiamo per caso Un esercito a perdere tempo Vabbè Lo togliamo No Contento Assolutamente no Anzi Ti voglio ambizioso Ok Un'altra cosa Che potremmo fare E verificando Ah Sono diventati Tutti cristiani Qui Vedete Strana Sta cosa Si sono convertiti Tutti Ah no Scusate No 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 E questa è la parte Che non è cristiana E non l'abbiamo Per nulla attaccata No Ero convinto Perché in una delle prove Che ho fatto Poi dopo I primi episodi Per vedere così Ho preso Un po' di Allora Qui lui Non si vuole sposare Ma Io vorrei che tu morissi In verità Però va bene Sposati Fra altri figli Noi siamo sempre sposati Con la Lombarda Si Ok Siamo a 49% Quindi mi sa che Probabilmente Però mi aspettavo Di prendere questi Tre territori Non capisco Sta cosa Perché Solo questi due All'inizio Ho visto Questo Che ha detto Che ci Ah perché Dejure Quello Ma di fatto È solo questo Pezzettino qua Ok Ok Che manca ancora un pezzo Potremmo addirittura Assaltare Ma va bene Allora Potrei diventare Clotness O 70% temperato Quando viene temperato Ok Sta salvando Nostra figlia Nostra figlia è diventata Maggiorenne Questa è una figlia Non legittima Se la tolgo la pasa Ah ho preso un territorio Non me ne sono manco accorto Dopo controlliamo Quanti possedimenti Ciao sto tizio Dentro a questa terra Qui che cosa ha Eh Perché è cambiato Vediamo lui che cosa possiede Solo questo Quindi Battuta sta con te Praticamente è rimasto Senza possedimenti Ok Però è bella grossa 1, 2, 3, 4, 5 Va bene Però è brutta sta cosa E piglieremo solo due posizioni Però avremo poi Un De Jure Per prendere quest'altro Pezzettino di Almeria Un caso sbelli Che quindi possiamo riprendere S'ultima parte della Allora Può diventare Umile Proud Proud pure è buono Sì Più 3 martial art Però c'è una percentuale Che diventa Ah 10% Proud No no Ah questa Che può diventare O orgoglioso O Umile Ok Vediamo che succede Proud Va bene Verità orgoglioso È Tratto negativo Però Difatti poi I modificatori Non sono poi così negativi Morta Imiltrude Va bene Pace all'anima sua Ok Butti giù Vediamo Una successione Ancora tranquilla Allora La fede iconoclasta Trionfa I aderenti Alla fede ortodossa Sono quindi arrivati al punto Dove l'iconoclastia Insomma che i fedeli all'iconoclastia Sono in maggioranza Quindi questo nuovo stato di cosa Ha ridotto l'ortodossia La fede ortodossa A un'eresia Ok quindi tutti i sacri ordini Che erano prima ortodossi Sono adesso iconoclasti Quindi praticamente questo significa che La parte della Grecia Qui Bisanzio Vedete l'ortodossia Adesso praticamente è questa E iconoclasti È diventata la religione principale Va bene Allora Ah questo addirittura è un Un luogo santo Si vede quando passate sulle regioni Queste sono molto bianche Sono luoghi praticamente che Ehm Doveva essere un luogo santo Sì Vedete Come Gerusalemme Come Baghdad Questa è Medina Cioè Mecca E così via Ho vinta questa Dovremmo essere arrivati al 100% No Perché non sono sue truppe Porca pupazza Ok Quindi gli assediamo Qualc'altro Territorio Ah potremmo prendere Indietro I territori Che hanno assediato Diciamo al nostro alleato Tra parentesi Quest'uomo chi è? Tu chi sei? È un eretico Non ha titoli Sarà stato qualche ribelle Hai soldi? No Posso ammazzarlo? Sì Ciao Perché devi stare a prendere spazio Nei nostri prigioni? Eh Non serve a niente Ok Allora Lui può diventare ambizioso Sì Ci sta a venire un secondo figlio Perfetto Che diventa Allora Vediamo un po' Ah Noi non possiamo Chiedere la pace Loro possono però Quindi dobbiamo aspettare Che lo facciano Dai fate Possiamo al 100% Cosa state aspettando? Non lo so Ah Non possiamo nemmeno assediare Questo di nuovo Ok Non so perché Si sono bloccati Adesso è strano Sta cosa Magari perché Ci hanno questi territori controllati da Duga di Valencia Però il problema è che noi non possiamo assediargli lì indietro Quindi Adesso fin quando una di queste due guerre non finisce È rimasto tutto bloccato Vabbè Nel frattempo Continuiamo a distruggere Questo esercito Ok Quindi lui adesso ci vuole un po' più bene Andiamo un po' Tra i nostri Ah Lui è sceso così tanto Perché? Abbiamo Troppi titoli Meno 10 E basta L'unica cosa è che non ti piace Quindi magari adesso il nostro Diplomatico Lo mandiamo a fare missione qui Che poi è stesso lui Ok Si andrà a convincere solo che sono un buon imperatore Vabbè Io a sto punto però Mi riporto le truppe a casa Perché insomma Se questa guerra È rimasta così Bloccata Ok Diventato imperato anche lui Purtroppo Deve finire una di queste due guerre Quindi ce le riportiamo a casa Sono rimasti bloccati Quindi ci sono troppe guerre In continuazione tra loro Probabilmente loro Hanno dichiarato guerra Dal signore Ma ecco qua Che è successo? È finita come? Scusate Allora Passiamo un attimo Alla velocità È finita la guerra Ma come? Ah Ma va Quindi il duca di Valencia Vedete che ha Ha preso Che poi alla fine è cristiano pure Quindi ha approfittato È stato più veloce di noi Peccato Adesso abbiamo una tregua con lui Perché Stavamo in guerra però Ok Togliamo di mezzo Le nostre unità Vediamo se abbiamo Una tregua con lui No Quindi potremmo dichiarare di guerra Magari prendere dei pezzetti Vedete Barcellona Navarra Valencia Che è solo quel pezzettino là Quindi Barcellona sarebbe Quello più ghiotto Vabbè Io però Direi che per questi episodi È tutto Fatemi sapere che cosa ne pensate Purtroppo questa guerra È andata a finire male Abbiamo provato ad aiutarli Ma il duca di Valencia È stato più lesto di noi E li ha occupati E ha vinto E vabbè Pazienza E ci sentiamo La prossima volta Arrivederci